Giacomo, 29 anni, nella gioventù francescana ormai da diversi anni, com'è per te questa esperienza? È un'esperienza unica, ringrazio Dio ogni giorno di avermela donato e di avermi donato anche le persone con le quali condividere questa esperienza. Ringrazio veramente le persone che all'inizio sono riuscite a trattenermi in questo gruppo e a permettermi di fare questa esperienza. Hai mai incontrato dei giovani non cristiani che ti hanno chiesto qualcosa? Assolutamente sì, mi capita nell'ambiente lavorativo, mi è capitato nell'ambiente universitario. Nel momento in cui io dicevo che apparteneva ad un gruppo, alla gioventù francescana, mi capitava la curiosità delle persone, sapere un po' cosa fosse, cosa non fosse, cosa facessimo. E io molto serenamente glielo dicevo e li invitavo anche a venire a provare ciò che noi viviamo ogni giorno. Ti senti cresciuto solo come cristiano o anche come uomo? Mi sento cresciuto come cristiano e come uomo. Mi ricordo quando sono entrato, tanti tanti anni fa. Ricordo i miei limiti, le mie povertà, che ci sono ancora, ma sono riuscita ad affrontarle grazie al percorso che ho fatto con la fraternità, ma soprattutto grazie ai consigli delle persone che mi sono state accanto e mi sono accanto tuttora. Come inviteresti un giovane di oggi alla gioventù francescana? Come lo inviterei? Gli direi semplicemente vieni, affidati, non avere pregiudizi, goditi quell'ora di riunione, quel momento insieme a tanti altri ragazzi e poi quello che deve accadere accade. Grazie a tutti.